Da mercoledì in Piemonte sarà possibile aderire alla vaccinazione con il Novavax e da venerdì dovrebbero partire le somministrazioni. Le dosi sono in arrivo e dovrebbe trattarsi di 60.000 unità. Ad annunciarlo è stato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. Non appena avremo i vaccini, ha detto, convocheremo le persone. Il vaccino Novavax ha bisogno di un percorso diverso rispetto agli altri vaccini perché non è concessa la vaccinazione eterologa. Quindi chi comincia con Novavax deve finire con Novavax mentre chi ha iniziato con Pfizer e Moderna non può finire con il Novavax. Per questo vaccino, ha rimarcato, c'è molta richiesta. Infatti riscontra molta attenzione da parte della platea di persone che non ancora hanno aderito alla vaccinazione contro il Covid. E visto che il nostro obiettivo è andare incontro tutti purché si vaccinino senza obbligarli ma mettendoli nelle condizioni di farlo subito, liberamente, quando lo vorranno, mercoledì si aderisce e da venerdì, se arrivano i vaccini, inizieranno le convocazioni.